Grazie a tutti. La persona che davvero è stata in causa, attivamente, non solo come vittima, è il bambino che come persona aveva le idee chiare. Lui non era d'accordo con il giudice che senza forse averlo sentito, avendolo sentito, ha detto no, no, lui è andato con suo padre. Questo magari suo padre gli stava sul cazzo per motivi sbagliati o probabilmente giusti e ha reagito, come poteva reagire, con tutta la sua forza, dicendo perché mi volete prendere, perché mi portate via. Cesare, lo Stato italiano. E per questo ho evocato poi in realtà il fatto che i tre prelati, altri prelati evocati da Di Leo, come voce sintomatica del mondo dei credenti, che rappresentano sicuramente il sensus fidelium, teologicamente parlando, rappresentano come i nostri cappellani penitenziari, le donne, quelle che ci hanno capito sapendo che la nostra posizione sull'aborto è quello che avrebbe distrutto in tre anni, quattro anni, quelli che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità erano un milione e duecentomila aborti clandestini l'anno. No, e questi, so che nella popolazione c'è un fatto, è che la grande maggioranza, non solo della popolazione cattolica, ma di quella comunista, io le ringraziai perché, contrariamente alla direzione del PC, furono loro che si dettano il trionfo sul divorzio e hanno continuato a darci la fiducia perfino sul finanziamento pubblico. Marco, ultima cosa rapidamente, quindi in pratica questo giudice che ha disposto questa cosa potrebbe essere in qualche modo paragonabile ai tanti magistrati di sorveglianza che nelle carceri non ci sono mai entrati e quindi con nero su bianco si dispone della vita di qualcuno senza neanche conoscerlo, senza vedere poi come vengono applicate le cose che dispone? Ma questo va approfondito perché quando un magistrato si espone, prima di giudicare come... Io dico che lui ha dato una soluzione nell'ambito dell'affido come oggi sta vivendo, malgrado, diciamo, divorzio breve e tutte le altre nostre associazioni che pongono questo problema. Ma io ho voluto solo porre il problema che sicuramente uno dei drammi maggiori erano quelli dei poliziotti, padre di famiglia, via dicendo, che, sapevo, il giudice l'avevano convocato e dovevano impedire a sto bambino di non essere preso, sequestrato dal padre, eccetera, e quindi figuratevi come stavano perché sicuramente non avrebbe corrisposto. Dinanzi a un bambino così lucido nel suo errore o nelle sue ragioni che si opponeva da persona in tutti i modi, questo è stato l'ennesima dimostrazione di come questo Stato, oggi questa Repubblica, e dico signor Presidente a Repubblica sempre, questa Repubblica è in una condizione, si conferma continuamente in una condizione di flagranza piena dei peggiori crimini rispetto non alla morale, ma rispetto a tutte le legalità di riferimento, la Costituzione italiana, la giurisdizione europea costituzionalizzata, come sappiamo, con le norme della Costituzione che hanno recepito il valore costituzionale stesso di patti internazionali, sempre ricordando un articolo 4, per esempio, che è quello dei diritti umani dell'ONU, e allora dico io spero nell'essere anche Chiesa dello Stato Vaticano, di essere anche Cesare, perché capiscano che sta a loro di denunciare la iniquità e la criminalità dello Stato, col quale quando hanno fatto il concordato con Craxi e via dicendo, non era in questa condizione, patente eccetera, e quindi mi rivolgo con convinzione della ragionevolezza istintiva, che i popoli credenti, non necessariamente le loro organizzazioni mondane, ma i credenti, e il popolo comunista era un popolo credente, non a caso poi i popoli credenti sono appunto, noi siamo i primi a doverlo dire, devono guardarsi innanzitutto da Cesare, dallo Stato, tranne Nicchi Vendola e quelli che mi considerano nazista perché sono liberale, liberista, inaudiano, federalista, libertario e via dicendo, solo perché non ha un cacchio da raccontare nella sua vita di lotta. Lui ha scelto astutamente da bambino, siccome era omosessuale, nel partito che non li vedeva molto bene, anche perché eravamo noi radicali aver posto questo problema della vita delle persone, ha trovato una soluzione. Subito ha detto, no, io so, al 100% comunista, al 100% cattolico, non so radicale, che cazzo ci racconta, poverino, di storia comunista e cattolica sua? Tutto qui. Ah sì, il fatto che Don Berzè riteneva che Silvio Berlusconi e Nicchi Vendola fossero le due persone al mondo, perché queste solo Don Berzè aveva citato, che meritasse la santificazione. Tutto qua. Grazie. Grazie Marco Pannella. Grazie.